Buongiorno ragazzi, allora, io che telefono sporco, dopo l'aperitivo di ieri abbiamo appurato tutti assieme con i ragazzi gli altri che vengono all'aperitivo che il mio telefono è da bruciare e buttare nel cesso non funziona più, non va bene, lo cambieremo, dopo il furgone però come siamo messi qua? Siamo messi come ieri, cioè dovevamo buttare il sensore, ieri l'abbiamo messo dentro fa una rilevazione, la rilevazione è sbagliata, in realtà poco ci frega sta rilevando circa la metà di quello che deve essere, perché da dove il sensore al pavimento ci sono 120 cm lui ne rileva 63, poi una volta messo dentro il sacco ne rileva 40, quando vado sotto ne rileva ancora meno devo dire che il difetto è costante, nel senso che l'errore è lo stesso, quindi io potrei benissimo fregarmene perché tanto non ho bisogno, la misura è esatta, non lo stiamo usando come sensore di distanza lo stiamo usando come sensore di riempimento, quindi se anche a me da 60 e sono 120, se io so che 60 è sacco vuoto potrei tarare tutto di conseguenza all'errore che tanto è costante e va bene uguale però abbiamo almeno il dovere morale di capire cosa sta succedendo Giuseppe Stigermonkey mi diceva che secondo lui è il cavo, troppo lungo, non schermato, che fa interferenza secondo me non è quello, secondo me è una questione di taratura sulla distanza ho dato un'occhiata a tutte le varie impostazioni del sensore, a tutte le varie impostazioni di SP Home che possono essere applicate al sensore e abbiamo abbastanza da lavorarci, secondo me possiamo ottenere risultato ma fissiamo l'obiettivo di oggi l'obiettivo della settimana era chiudere questo per lunedì in modo tale che il primo grosso pezzo di domotica fosse chiuso rimetto la sua posta, siccome appartenenti ci siamo lo facciamo diventare l'obiettivo di oggi quindi l'obiettivo della giornata, della mezza giornata di oggi perché mezza giornata mi è andata via è chiudere questo e rimetterlo a suo posto con tutta la sensoristica al di là dell'interfaccia che poi vediamo però anche sull'interfaccia ci sono dei ragionamenti perché ho studiato abbastanza SPM1 queste ore e ci sono certe cose che vale la pena far fare direttamente al sensore invece che farla fare Home Assistant così che risulti un'integrazione più pura possibile l'obiettivo della settimana invece direi che ci aggiungiamo il compressore quindi per domani facciamo il compressore il compressore su cui mi avete dato un sacco di cose e idee ma adesso concentriamoci su quello non mi serve a niente stare qua con il computer scomodo senza uno schermo posso fare tutto da di là perché lui è alimentato, online e wireless quindi una volta che io adesso vado sotto mi prendo la misura dal sensore al pavimento so esa misura che devo riuscire a ricavare e vado di là e posso giocare con tutte le parti di Home Assistant scusate, con tutte le parti di SP Home e fare vedere anche tutta la parte dei filtri da applicare a un sensore perché non solo si può fare un taraggio non solo si può fare un offset, un range ma si può anche già convertire la misura e farla convertire direttamente lui quindi nel nostro caso noi abbiamo bisogno una misura in percentuale e non in metri come ce li sta dando lui ma tutto il calcolo lo faremo fare direttamente al sensore una volta che abbiamo stabilito correttamente minimo e massimo così almeno poi l'integrazione di Home Assistant sarà molto più facile e molto più pura perché quando ricevo una percentuale usare un gouge, una schermata che porta la simulazione di un riempimento una bacchetta che va da 0 a 100 è molto più semplice perché a quel punto il dato che riceviamo è puro in più ci sono altre cose che vale la pena integrare nell'SP come mi ha consigliato uno di voi tanto vale integrare a livello software già in Home Assistant un tasto di reset nel caso vada resettato così io non devo aprire la scatoletta e schiacciare il bottone quindi c'è anche tutta questa parte il mondo SP è enorme va studiato tutto bene bisogna capire dove sono le fonti ci sono le fonti ufficiali bisogna andare proprio a indagare e a proposito di questo prima che io prenda la misura e mi trasferisca di là una risposta alla domanda che mi state facendo per la maggiore cioè alle domande che mi state facendo per la maggiore su questo lavoro in tantissimi mi state chiedendo una domanda generica cioè dove ho installato Home Assistant Home Assistant io l'ho installato su un mini PC come sistema operativo dedicato ho sostituito Windows al sistema operativo Home Assistant per sfruttare a pieno tutte le potenzialità hardware del PC questo perché ho tante telecamere quindi serve potenza di calcolo le altre domande che mi state facendo sono tutte dettagliate tipo Tuya quello che abbiamo integrato che ha praticamente un'integrazione solo online come ho fatto a portarle al locale domande del genere sono tutte domande che arrivano palesemente da chi di voi non ha neanche mai aperto Home Assistant che non è un male però il mio consiglio è se volete approcciarvi a Home Assistant non fatelo in maniera teorica senza andare a scomodare un mini PC prendete un Raspberry gli sbattete su Home Assistant ve lo attaccate alla rete mettete dentro i due sensori del cazzo che avete e iniziate a guardare le possibilità perché non ha senso studiarlo in maniera teorica come non ha senso niente essere studiato in maniera teorica cioè a un certo punto fate molto prima su queste cose qua con la pratica mista alla teoria cioè installate Home Assistant su Raspberry ci collegate il primo sensore che avete disponibile uno Shelly quel cazzo che volete vi ponete un obiettivo e cercate di raggiungere quell'obiettivo che sia un'automazione che sia l'accensione con un pulsante che sia l'accensione in dipendenza di un altro dispositivo vi conviene fare così non fatevi domande tipo come integro questa roba che dialoghi con la provateci perché è molto più facile fare una ricerca in internet mirata sull'obiettivo che avete cioè per esempio come faccio in modo che un sensore risponda al trigger di un altro sensore cioè accendo la luce del bagno mi si apre la porta per fare un esempio casuale piuttosto che andare a cercare un'informazione generica come un sensore influenza l'altro perché non la trovate trovate tantissimi esempi di gente che ha problemi a fare le cose trova soluzioni dettagliate trovate quella più simile al vostro obiettivo e da lì scavate ma non affrontate ma si state in maniera teorica vi comprate davvero un cazzo di raspberry ce lo sbattete sopra ve lo tenete in casa fa niente se avete già home kit in casa se avete già altre soluzioni può andare parallelo il sensore le legge anche lui non dovete strappare per forza le cose la seconda domanda che va per la maggiore invece posso usare home assistant cioè posso avere home assistant e poi usare home kit si ognuno può fare tutte le porcate che vuole e questa risposta risponde anche alla domanda perché che ho tutto apple come se poi fossi un fabboy ma in realtà a me di apple non me ne frega niente non sto usando home kit allora home kit è bella è esteticamente ficcante è apple style però se volete usarla per come è stata pensata dovete comprare solo i dispositivi compatibili con home kit che solo perché hanno il marchietto home kit costano tre volte poi è molto limitata dal punto di vista delle scelte e le allumazioni home assistant la libertà è il vostro pensiero cosa volete integrare cosa potete integrare se poi avete messo su home assistant e volete usare come dashboard di controllo home kit esiste l'adattatore cioè c'è un add-on in home assistant che espone tutti i sensori che legge home assistant anche in home kit anche se in realtà non sono compatibili quindi potete benissimo avere tutte le automazioni del caso che non riuscite a fare in home kit perché è limitato per esempio un kit non permette di fare un'automazione basata su una serie di condizioni di sensori diversi più il meteo più le robe è limitata da quel punto di vista lì non potete fare una roba del genere vi fate l'automazione in home kit poi però per accendere e spegnere le luci dal divano col telecomando col cellulare perché vi piace fare queste porcate qua potete farlo con home kit attraverso l'addom così almeno anche questa l'abbiamo risolta ragazzi è purtroppo impossibile per me darvi un'infarinatura generale di home assistant primo perché non ce l'ho nemmeno io che nessuno può conoscere tutto home assistant e secondo perché non me ne frega un cazzo di farvi sto lavoro qua cioè io vi do degli indizi su cosa si potrebbe fare poi voi andate a scavare quello che dovete fare quello che volete ora se no si chiamerebbe lo tutorial ora prendo la misura da terra a lì e andiamo di là che sono più comodo con il computer e smanacciamo un po' quel sensore prima di andare di là una cosa che mi sono dimenticato me l'ha fatto ovviamente Carpenter Guitars che mi dice se il sensore si sporca e risiegatura non c'è il pericolo che dia rilevazioni falsate no perché è fatto apposta nel senso è lo stessa tecnologia di sensore che viene messa nei silos della SCM o altri silos di farina quindi la polvere è all'olio del giorno per quello è ultrasonico perché emette un raggio quando trova una superficie abbastanza densa da poter rimbalzare rimbalza indietro se ha del polviscolo davanti lo ignora cosa che non sarebbe successo con un sensore infrarosso invece perché appena il led infrarossi si opacizza di polvere andiamo a casa chi invece di voi ha addotto che il problema di misurazione è dovuto al fatto che ci sia una gabbia intorno di metallo che fa rimbalzare no perché l'errore ce l'abbiamo anche senza niente per terra quindi non è questo sono i filtri da sistemare ve li faccio vedere una cosa che ignora la maggior parte delle persone che non è programmatore quando si approccia a questo genere di cose è la documentazione la documentazione c'è sempre più o meno per ogni tipo di integrazione di qualsiasi tipo in questo caso è veramente ben fatta ed è tutta direttamente sul sito SPOM cioè proprio il sito ufficiale e c'è tutta una documentazione che permette di capire cosa si può fare con i vari sensori per esempio l'on press non release non state on click double click multi click è tutto ciò che riguarda un pulsante cioè cosa viene fatto a un pulsante e quindi stabilire le varie cose nel nostro dettaglio quello che ci interessa è i componenti di sensori e soprattutto le configurazioni tutte le varie configurazioni che si possono dare a un sensore in questo caso l'esempio è un esempio di temperatura cioè un sensore di temperatura però ogni sensore ha poi le sue specifiche quello che interessa a noi soprattutto sono i filter perché tutti gli altri abbiamo già visto adesso non ce l'ho più aperto forse ah si facciamo così tutti gli altri abbiamo già visto che noi l'abbiamo settato il time out è a 4 metri questi sono metri non minuti cioè comunque compare anche qua basta leggere number of meter for time out most sensor can be only set up 2 cioè praticamente ti dai in time out se non mi torna indietro nel nostro sensore specifico ultrasonico che fa un'onda e poi un rimbazio se non mi torna indietro dentro 2 metri non vuol dire vai in time out non cercare di darlo io l'ho portato a 4 ma in realtà potrò portarlo anche a 2 poi il pulse time i millisecondi il quale deve mettere il raggio anche questo se lo facciamo troppo ravvicinato c'è il rischio che uno si incastri con l'altro quindi dobbiamo trovare la misura giusta l'update interval cioè ogni quanto deve l'abbiamo portato a 5 secondi per fare i test ogni quanto deve farlo e noi troveremo poi la quantità giusta qualcuno gli rimane anche posto il problema ma quindi quando tu sei là e togli il sacco per fare la pulizia lui darà una misurazione sbagliata sì per forza siamo in manutenzione però quando io tolgo il sacco e faccio la pulizia o pulisco il filtro tutto il Biksuka è staccato dall'alimentazione per sicurezza quindi di fatto non emetterà nessun segnale quello che dovremmo cercare di fare a livello di home assistant invece è un allarme non ripetibile perché mettiamo che gli diamo 60 secondi di intervallo tra una lettura e l'altra che è una buona misura per un'applicazione del genere se mi va in allarme io ricevo l'allarme lo capisco poi ti devo mettere in stand by l'allarme fino a quando non ti dico di nuovo di rifarmelo non è che ogni 60 secondi mi rompe i coglioni sto tagliando lo so che il sacco è pieno mi mancano tre tagli non me lo ripetono in 60 secondi tanto non è che vado subito a svuotarlo e questo si fa con una terza variabile in gioco ma lo vediamo sulla parte software questo quello che interessa a me studiare in questo momento sono vi dicevo i filtri a ogni sensore può essere applicato una serie di filtri qua per esempio ci è applicato nell'esempio un sensore che è sliding window mood di average che non so che cosa sia però se io vado sotto questi sono tutti i filtri disponibili ce ne sono veramente tanto tra cui anche il lambda che mi permette di manipolare il dato che ricevo cioè il nostro quello che noi riceviamo ora che è uno 0.63 perché è dato in metri io posso manipolarlo per ottenere o se lo moltiplico per 100 ottengo i centimetri oppure anche una percentuale con una manipolazione semplice di dato dandogli il minimo e il massimo adesso mi studio un attimo i filtri e vediamo di portare a casa il risultato della misura giusta abbiamo detto che devono essere devono essere la misura che devono essere l'ho presa ma parlavo con voi e mi sono già dimenticato se non sbaglio 105 da lì a terra una volta con la misura giusta quella che ho manipolato i dati per avere quella misura giusta ci siamo però devo riprenderla perché non lo sono dimenticato allora il primo poleman l'ho risolto l'ho risolto con una calibrazione lineare praticamente c'è la possibilità di calibrare linealmente il sensore gli si danno due misure sicure che noi abbiamo quando abbiamo la possibilità di misurare cioè due compensazioni in modo tale che lui poi faccia tutto il resto di conseguenza in realtà c'è anche la quella la calibrazione polinominale o la calibrazione esatta dando gli più punti a noi ne bastano due ora io gli ho detto che i 63 centimetri che lui rilevava quando misurava terra in realtà sono 1,5 m mentre lo 0 devo dire che lo faceva giusto aveva lo scarto di 1 cm quindi è sulla distanza che un po' si perdeva e infatti adesso che di là non ho dentro niente lui mi dà 1,5 m esatto e continua a darmi 1,5 m si occupa lui di fare la conversione se guardiamo i log lui adesso sempre ogni 5 secondi spara segnale e ogni 5 secondi mi dice io ho misurato 0,64 però in base alla corretezza che mi hai detto questo è 1,5 m ok 1,5 m ha qualche piccolo scarto da una rilevazione all'altra scarto da una rilevazione all'altra che possiamo risolvere perché tra i filtri c'è anche la media quindi esattamente quello che ci serve a noi possiamo dirgli non mi dare tutte le rilevazioni fammi una media delle ultime 4 e passami quelle ovviamente poi questo influisce anche sulla frequenza nel senso se io gli faccio fare una rilevazione al minuto e lui gli dico dammi una media delle ultime 4 rilevazioni quello che comanda è la frequenza di rilevazione quindi mi darà un dato ogni 4 minuti quindi noi adesso la media gliela facciamo fare dopo aver fatto un altro lavoro una media gliela facciamo fare però gli cambiamo anche la frequenza però prima facciamo un'altra cosa metto dentro il sacco cerco di capire allora io so che noi abbiamo bisogno anche minimo e massimo ragazzi abbiamo bisogno minimo e massimo perché abbiamo detto che gli facciamo fare una conversione da centimetri che non ce ne frega solito un cazzo a percentuale perché noi vogliamo sapere quanto è il 100% pieno e quanto è lo 0% vuoto e qui non so se potremmo farlo al contrario però metto dentro questo e più o meno adesso calcolo che circa quasi sono se prima era un metro e cinque adesso sono 10-12 centimetri in meno perché c'è dentro il minimo so già che è 28 28 è il minimo che io voglio perché è proprio l'arrivo della fine del sacco non voglio che vada oltre così almeno se decido di rimandare lo svuotamento so che ho ancora 20 centimetri di margine bene io ho stabilito una media una media ogni cinque fai quattro rilevazioni alla quinta dammi la misurazione quindi lui come vedete fa quattro rilevazioni ed è intelligente perché le fa senza conversione poi converte quattro rilevazioni e poi converte e quindi adesso di fatto mi dà 0,95 ok 0,95 che è giusto perché era 1,5 abbiamo tolto cioè non è che li ho tolti io li ho tolto due adesso che abbiamo messo dentro il cestello e sappiamo che era più o meno di centimetri quindi abbiamo un range da minimo 0,28 massimo 0,95 però noi dei metri non frega assolutamente niente noi vogliamo la percentuale quindi adesso c'è un po' di codice da scrivere la percentuale ok dopo un po' di conversioni e un po' di matematica e un altro componente c'è l'aggiunta di una piattaforma template che altro non è che la conversione dei dati di un sensore per ottenere un'entità form assistant virtuale so che così è assurdo per quello vi dico installatevi home assistant si possono creare dei template che sono delle entità in home assistant che in realtà non corrispondono a un sensore fisico ma sono la manipolazione dei dati di un sensore che poi viene esposta come se fosse un sensore a parte tradotto letteralmente prima avevamo la misurazione ultrasonica del sensore del sensore ultrasonico che ci dava 0,95 adesso abbiamo il filling level il filling level non esiste è una manipolazione di questo dato che per tutti i decimali che ci sono va da 0 a 0,1 nel senso questa è l'approssimazione migliore che riesco a avere praticamente perché gli viene detto crea una piattaforma di tipo template chiama la filling level usa come unità di misura la percentuale e a quel punto lui usa quello che gli dici tu per il semplice motivo che è finto è un template della manipolazione di un dato e poi gli fai fare un'auto R perché gli dici semplicemente che il sensore di distanza che è questo che è specificato in questi D è il suo stato meno 0,95 per 100 meno 0,0 con una forbice da 0,28 a 0,95 ok che è il nostro minimo e il nostro massimo che ci siamo misurati di là come cestello che vogliamo se R è maggiore di 100 ritorna a 100 se è minore di 0 ritorna a 0 molto semplicemente quindi ci dà che è 0% poi siccome dentro c'è un sacchetto che non ha una forma liscia e piatta ma è comunque movimentato ci dà dei valori che cambiano di 0,1 che poi in realtà cambiano di meno di 0,1 ma c'è l'approssimazione decimale adesso per fare la prova ci dà 0 e il sacco è vuoto mettiamo dentro qualcosa mettiamo dentro qualcosa che ci faccia fare una misurazione di un tot così almeno vediamo se ci becca riempimento ammesso che ci stia se io metto dentro questo e lo metto nella posizione giusta cercando di imbloccare il sensore in teoria questo è già oltre il nostro 100 perché arriva sopra il sacco quindi di là io mi aspetto che mi restituisca un 100 perché io gli ho detto se vai over quota dimmi che è 100 cioè che è pieno pieno non stare dimmi 135 che non vuol dire un cazzo lui dovrebbe darmi che questo qua se l'ho messo nella posizione giusta perché devo aver imbroccato proprio il segno del il segnale del 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 sensore lì sotto che non è detto che l'abbia imbroccato ok ho dovuto fare qualche aggiustamento perché mi ero dimenticato di mettere un dato mi ero di fatto dimenticato nel mio calibrazione lineare di aggiungere anche il primo valore cioè quando misuri 27 misura 28 quindi avevo bisogno di due punti di misurazione che devono corrispondere sempre a misurato verità da una parte il misurato dall'altra verità infatti adesso con dentro quello per lui è pieno al 97,8% perché si vede che non arriva proprio lì perché sono 20 misura 29 centimetri quindi è quasi pieno tutto un dato che vuoi vedere facciamo l'ultima prova mettiamo dentro qualcosa che stia più o meno circa a metà e che mi dà il terzo valore che mi taglia la testa al toro per sapere se la compensazione è corretta mi devo ricordare di riattaccare questo con lo scotch prima di chiudere tutto ora c'è una roba che più o meno sta a metà a mezzeria più o meno poi a noi ripeto l'alarme non lo faremo quando è al 100% l'alarme lo faremo quando è circa al 90% così da avere un po' di margine abbiamo il margine che sopra il 100% ha ancora spazio se l'alarme lo do al 95% sono ancora più safe adesso se è giusto lui mi dice che è sbagliato che mi dice che è pieno all'11% ah no ecco adesso ah si lo stavo ancora muovendo perché adesso fa la media dei tre valori al 70% che è oltre infatti quello a fare era oltre la metà del cestone ok adesso è giusto ok cioè l'unica cosa che devo aggiungere adesso è come suggeritomi il pulsante di R7 dell'SP32 che anche lì è un pulsante finto è di fatto un pulsante che comparerà qua da qualche parte e va aggiunto sempre nelle impostazioni qua e poi lui è a posto possiamo pensare non dico l'interfaccia di tutto che devo ancora disegnare al Big Suka però vediamo almeno come far vedere il range ah la misurazione beh adesso le sto testando o lo lasciamo ancora ogni 5 secondi poi io farei una misurazione ogni 3 secondi che vuol dire che se abbiamo una media di 5 cioè il quinto mi risultato fa ogni 4 volte 30 ogni 2 minuti mi dà il valore per me ci sta ogni 2 minuti lui refresha il valore 30 secondi di refresh una media di 4 di 5 ci sta di 5 vuol dire 4 il quinto dalla misura ci sta festeggiare quasi con un caffè Dario mi chiede se le schermate che sto facendo vedere quelle dove imposto la media dove imposto la conversione in percentuale dove imposto le robe sono schermate di home assistant si e no cioè in realtà no nel senso è SP home che è un addon di home assistant ma serve a controllare home assistant serve a controllare scusate SP quindi di fatto tutti questi conversioni tutte queste questi calcoli di adattamento di percentuale tutte queste robe qua non le sta facendo home assistant le sta facendo le SP che ci restituisce il dato puro come noi l'abbiamo voluto non faccio fare queste conversioni a home assistant perché non avrebbe senso quel sensore lì deve essere ignorante rispetto ogni parte deve essere isolata in programmazione vale sempre il divido ed impera quindi il sensore deve rilevare il dato manipolarlo restituirmelo home assistant deve avere il compito di mostrarmelo non deve avere il compito di elaborarlo mostrarlo e lavorarci cioè poi scatenare gli eventi ma il dato non deve manipolarlo home assistant perché il giorno che home assistant mi cambia qualcosa sulla manipolazione dei dati così sono fottuto invece così home assistant se io SP se mai lo aggiorno mai lo tocco continua a fare i suoi calcoli e non c'è problema dovete sempre dividere le due cose chi mostra il dato non è chi lo manipola chi usa il dato non è chi lo crea è sempre così vale anche per l'applicazione per il cellulare vale per tutto dovete dividere le cose quindi quella schermata lì è home assistant nel senso che la vedo all'interno di home assistant ma di fatto è una donna parte quindi di fatto io potrei aprire anche su web su un browser potrei aprire con la schermata e parlare direttamente con la SP allora come vi ho detto non è altro che un componente di tipo bottone che esegue un'azione restarts con un ID e poi ha un platform un template i template sono tutto ciò che dovete far comparire su home assistant e di fatto su home assistant adesso oltre al feeling level che è un sensore che non abbiamo dato noi l'ultrasonic sensor che invece è il sensore fisico è quello che rileva che potremmo anche convertirlo in centimetri ma in realtà questo dato non lo useremo mai il firmware update che è in situ in l'SP abbiamo il restart device se premo questo riavvio il dispositivo questo non mi sta mantenendo l'icona perché penso che vada impostata qua nel template qua vada impostata l'icona me ne frega poco adesso lo farò ma me ne frega comunque poco di avere l'icona di percentuale lì perché non saremo così adesso posso fare l'interfaccia almeno capire come visualizzare questo dato poi io farei una cosa che ieri ho detto che non avrei fatto ma che secondo me aggiunge ficcanza cercherei di integrare quel monitor ieri ho fatto tutto il ragionamento del cazzo del quale non aggiungevo il monitor perché avevo passato un cavo a quattro poli e quindi non avevo altro peccato che il monitor va attaccato all'espino va attaccato al sensore quindi di fatto ho tutto in la scatoletta aggiungere un monitorino che mi dice la percentuale del riempimento del sacco anche lì sul Bixuca potrebbe essere ficcante quindi dato che siamo in anticipo sui tempi e non ho voglia di stare qua tutto il giorno a disegnare l'interfaccia che è un lavoro che preferisco fare in solitudine c'è un sacco di disegno vettoriale dato che come avete chiesto ieri magari aggiungiamo quel monitor lì però non so niente di come aggiungere quei monitor lì allora sta diventando un po' più lunga del previsto perché di fatto non c'è non ci sono tanti componenti che permettono questo tipo di dimostrare questo questo tipo di dato di fatto intanto qua si è acceso il filament rack lo vedo anche da qua e ho un problema su questa scheda perché questo non viene mostrato nella companion app però non so perché il grafico sotto questo è quello che va per la maggiore ok proprio standard basico poi ci sono un po' di opzioni si possono scegliere le sezioni dei colori si può avere la linguetta oppure no oppure si riempie cambia colore quando raggiunge il risultato mi fa alquanto cagare però lo vediamo poi insieme quando ho fatto il disegno del Biksuka adesso lasciamo stare il Biksuka togliamogli cioè lasciamo stare il Biksuka togliamogli quello che ho messo dentro per fare la misurazione alla scatola così almeno non lo porto di là se no me lo dimentico e riempio di segatura la scatola ora io dedicherei almeno un'oretta a cercare di fare la roba del dello schermo perché no cioè perché su questa copertura qua qua da qualche parte sulla copertura non ritagliare uno spazio e aggiungere il monitor che mi dice la percentuale di riempimento ce l'abbiamo lì in realtà io ho due strade posso usare uno di questi ok che è un LCD 1602 e ne ho però questo qua è da saldare però ne ho ne ho parecchi se no avevo anche un'altra cosa che mi intrippava molto di più che è questo questo è ancora più analogico ed è ancora più bello che è il 4 digit ok considerando che noi abbiamo il 100 e la percentuale dovrebbe bastarci questo qua sarebbe fico riuscire a interfacciare uno dei due allora questo darebbe indubbiamente più informazioni non ho idea come si interfacciano non ho idea soprattutto come gli si passino i dati non ne ho la più pallida idea però anche questo non è male molto grezzo se vogliamo chiamatelo come volete però anche questo qua non è male che ha un po' più di più di natura quindi o il 4 digit ok display o l'LCD 1602 se non è una roba estremamente complicata vediamo di aggiungerlo allora quello a led rosso a segmenti è un casino da gestire perché ogni singolo segmento vuole vuole la sua è un led singolo led va pilotato singolarmente non esiste quello lì invece 16x2 è un po' più facile da gestire quindi sto provando a integrare quello il problema che ho è che devo alimentarlo a 5 volt ma io la porta a 5 volt sull'espice l'ho occupata perché ci sto ci sto alimentando il sensore quindi non ho un altro 5 volt disponibile posso attaccarli tutti e due a quello lì? non credo allora Simone mi dice che si possono attaccare alla stessa porta in realtà però c'è una fracca di roba da attaccare perché poi c'è anche da attaccare un potenziometro per regolare il contrasto e un sacco di menate che sarebbe tutto molto più facile fare con una schedina integrata apposta da attaccare prima allo schermo e poi interfacciare all'SP renderebbe tutto molto molto più semplice io questa schedina non ce l'ho sto perdendo tempo il monitor era un eccolo qua il monitor era un plus c'è tutta sta roba da attaccare cioè non esiste se riesco a farlo vedere eccolo qua c'è da fare tutto sto collegamento con anche il potenziometro il monitor in realtà era un plus e quindi per quanto mi riguarda ce ne possiamo anche sbattere bellamente niente giocheremo con i monitor un'altra volta adesso direi che per questo ci accontentiamo direttamente del risultato raggiunto che è già tanta roba chiudiamo sta scatola rimettiamo a posto il Big Suka e poi penserò io per i cavoli miei a fare l'interfaccia di sta roba e vediamo il compressore con un giurante lui c'è nuova posizione così è molto per svitare il filtro devo sempre tirarlo via per forza perché devo accedere sia di qua che di là quel tubo lì va un pelino allungato perché così è un po' un po' troppo diretto adesso vedo se ne ho un altro pezzo sala cinesca è aperta tutto acceso lui funziona prendiamo metodo in manuale ok funziona in manuale non c'è problema e adesso togliere il sacco è molto più comodo perché qua esce direttamente di qua adesso verifichiamo solo che funziona ancora il sensore poi riporto la pialla al suo posto così almeno non rimane merda in giro e diamo un'occhiata al compressore l'abbiamo fatto il Big Suka è a posto ora dato che sul nostro qua tabellone delle balle festeggia anche il prete tabellone delle balle abbiamo fatto tutto stato filtro agitatore sacco che era un punto di domanda ma l'abbiamo risolto brillantemente ora a dire il vero io potrei inserire subito il Big Suka anche se non ho fatto l'interfaccia nel runtime quello mattiniero però siccome mi sembra di capire che siete interessati anche alla parte software di gestione e l'integrazione del Big Suka al di là dell'interfaccia ragazzi vi ripeto le interfacce nella domotica sono l'ultima roba noi potremmo fare tutta una domotica completamente priva di dashboard completamente priva di interfaccia che funziona per i cavoli suoi che ci dà avvisi fisici altra roba ma dicevo siccome prima di integrarlo nella dashboard ci sono delle parti da fare perché non è che basta che io metto l'automazione di pulizia nel nostro main avvio del laboratorio stamattina qualche considerazione cina va fatta rimando tutto a quando ho disegnato la scheda quando ho disegnato la scheda e sono soddisfatto della scheda poi vi faccio vedere come lo integro e ne parliamo compressore vediamo il compressore come al solito un pezzo alla volta allora i compressori sono due c'è quello piccolo e quello grande entrambi sono già all'interno della routine sarà le mattiniera di spegnimento accensione per evitare che il per evitare che partano durante la notte e rompano le palle di là con una una esterna una presa domotica esterna e così rimarranno ora questo rispetto all'altro che è più complicato da fare merita un'automazione di scarico della condensa automatica sotto c'è già un rubinetto quello che devo andare a fare è semplicemente automatizzare l'apertura del rubinetto e poi detacciare penso non sopra ma penso semplicemente un tubo purtroppo non posso bucare perché la porta è scorrevole che fa il giro di qua e si scarica lì niente di emozionante per far questo io ho preso questa questa è una valvola sferica normalmente chiusa a 220 dovrebbe aver segnato anche il flusso ecco il flusso è per così ok mezzo pollice se non sbaglio che è esattamente l'attacco del compressore questa non può essere montata così deve essere montata necessariamente così ma al di là del montaggio che lo vediamo dopo la prima cosa è testare le connessioni poi facciamo un ragionamento su sull'installazione cioè come va installata la installiamo su uno shell a parte mettiamo una presa comandata mettiamo uno shell due e mezzo di fianco a quella presa lì perché io ho già fatto dei ragionamenti e se ormai c'è un solo modo corretto per procedere quindi prima cosa io farei un test la attacchiamo e vediamo se si derva e quando gli togli corrente si chiude possiamo fare solo una roba del genere allora due collegamenti al volo ho messo qua una linguetta per farvi capire come funziona ma il funzionamento è proprio stupido cioè nel senso è una valvola a sfera che è normalmente chiusa quando viene eccitata la bobina all'interno del sifulotto apre la valvola infatti se io sparo aria qua vedete che non si muove se io attacco dovrebbe anche si dovesse sentire anche lo scatto ok adesso passa quando io tolgo alimentazione dal suo lato non passa più aria e neanche acqua ho preso questa perché è indicata esattamente per quello che devo fare io perché supporta per aria o acqua da 0 a 7 bar e il mio compressore rientra in questa categoria ha mezzo pollice che è esattamente l'attacco che io ho sotto e ha un grade funzionale da 10 gradi a 120 gradi come temperatura in più è a 220 che è quello che serviva a me non è una valvola pensata per funzionare continuatamente nel tempo le istruzioni dicono non più di 8 ore se no c'è il rischio che la bobina è eccitata per 8 ore si riscaldi quindi non va bene tipo per irrigazione ma che cazzo irriga 8 ore comunque non è il mio caso e non è e non me ne frega assolutamente niente perché rimarrà accesa per pochi minuti secondo me forse non stiamo parlando neanche di minuti perché adesso magari il compressore ha dentro un po' di condensa e tutto poi una volta che rientra nel ciclo mattiniero di accensione in cui tutte le mattine fa sta roba quando la lascio aperta secondo me 15 secondi ne abbiamo d'avanzo perché comunque cioè in 15 secondi ne esce di aria ovviamente tutto sarà fatto a compressore ma spento o acceso in realtà è uguale perché tanto la pressione all'interno del compressore è la medesima che io l'abbia acceso o l'abbia spento perché se lo spengo la sera e la mattina prima faccio lo scarico e poi faccio l'accensione o viceversa non cambia assolutamente assolutamente nulla quindi possiamo giocarcela come vogliamo qualcuno di voi mi ha già consigliato se non posso per non tirare un tubo che poi io volendo potrei tirare il tubo anche su perché tanto con la pressione che ha dentro che sta a fare qua la poca condensa che c'è dentro me la spara direttamente via nello scarico e non c'è problema se non posso creare sotto una vaschetta con un sistema come quello dell'armadio dei filamenti una piastra di peltie che scalda e fa evaporare il tutto se non fa tanta condensa è un iper lavoro inutile al cazzo perché di fatto ho lo scarico di fianco e facciamolo se non avessi lo scarico di fianco avrei optato comunque non per un sistema del genere ma per una tanica una cisterna con un sensore di riempimento che mi dice quando è piena la svuoto così il compressore di fatto è sempre vuoto e poi io devo svuotare ogni tanto la tanica ma non è questo nostro il caso perché abbiamo di fianco uno scarico dell'acqua e lo usiamo e basta così a posto così l'installazione ovviamente va installata a uno shelly che apre il contatto e chiude il contatto però ci sono due strade due filosofie per farlo uno è il dividere impera l'altro no e a sto giro la strada giusta secondo me è il no il mio ragionamento è lì arriva la corrente ok la corrente alimenta il compressore io potrei fare una cosa potrei aggiungere qua dentro uno shelly o uno shelly due e mezzo ed eliminare questa presa qua alimentare un'altra presa attaccare la valvola connetterla allo shelly e far fare tutti gli automatismi sia uno che l'altro anche solo uno shelly e lasciare questa qua insomma questo qua è il criterio però secondo me non è così che deve funzionare non è così che deve andare a questo giro non devono essere divise le due cose devono essere subordinate perché noi qua abbiamo due funzioni la prima funzione è quella di acceso e spento del compressore che è una questione di installazione perché se questo compressore qua fosse piazzato in un laboratorio normale dove di notte non c'è nessuno non ci sono vicini o in una zona industriale non c'è la mia camera da letto di fianco o nel mio caso la cucina nella porta a fianco che questo si accende e si spenga non è necessario quindi quella funzione non serve la seconda funzione invece è quella di svuotamento automatico della condensa e lo svuotamento automatico della condensa è una cosa che non dipende dall'installazione ma dipende dal compressore qualsiasi compressore bisogna scaricare la condensa e quindi è in situ nella sua natura allora secondo me il senso di come va fatta questa integrazione è questo lo shelly e la valvola devono essere collegati a valle dell'alimentazione del compressore praticamente devono essere collegati all'alimentazione del compressore è lì che devono fare lo shelly è qua che noi dobbiamo detracciare lo shelly non da una presa di corrente se io stacco il compressore e lo sposto di posto per intenderci non mi serve cioè non posso dover spostare quella presa lì per questo rimarrà una presa esterna perché le prese esterne smart per quanto raccapriccianti hanno un loro senso hanno il senso che se è una cosa che potrebbe essere spostata io non vado a mettere direttamente cioè le luci della camera gliele metti nella presa direttamente dentro questa roba qua che deve essere staccata no quindi bisogna derivare l'alimentazione dello shelly con tutto il giro di cavi educato che si può fare direttamente dall'alimentazione del compressore stesso tira fuori i 220 da qualche parte o da qua dove c'è fuori e poi andare giù con un altro cavo all'elettrovalvola o comunque lasciare tutto integrato se lo stacco lo sposto da un'altra parte magari non mi serve più la funzione di spento acceso ma mi serve indubbiamente ancora la funzione di svuotamento però come sempre prima di tutto lo shelly bisogna prepararlo a banco allora mentre Paolo mi avvisa che questa valvola non è a sfera ma è a movimentazione verticale e quindi scaricherà tutto in un botto e lo gestiremo ho un problema mi sa che ho sbagliato qualcosa perché io sto usando uno shelly che di fatto interrompe solo la fase non ho capito tutto perché mi sto perdendo nel collegamento io ho questo qua uno è la fase e l'altro è neutro quando sono alimentati quando sono alimentati chiude il circuito ok adesso senza magari fotterlo o prendere la scossa quando sono alimentati abbiamo detto che chiude il circuito ok però lo shelly come uno andrà collegato alla fase cazzo mi perdo sempre non sono sempre io che imbevo il cervello cioè a volte è anche qualcos'altro il collegamento è giusto perché io un filo l'ho portato al neutro l'altro l'ho portato allo zero come è giusto che sia però quando accendo scatta lo shelly ma non scatta la valvola dunque questo shelly ha qualcosa che non va a meno che non ci sia qualcosa da impostare di diverso nell'app però di fatto anche quando lo porto ok su uno allo zero non arriva a corrente quindi questo shelly secondo me ha qualcosa che non va questa qua è accesa ma questa no e lui è aperto quindi mi sa che questo shelly qua è buggato ma invece sì cioè non sono mica io che imbevo il cervello invece sono io che imbevo il cervello è un cazzo di shelly 1 quindi il contatto pulito non ha niente non ha fase d'ingresso io la devo portare sono stanco ragazzi serviva passare la fase all'input per averla sull'output ora il suo lavoro lo fa sento nell'aria qualcuno già ansiato che quando aprirò la valvola e manderò tutto nello scarico si sfonderà lo scarico si riempirà di pressione sparrà l'inconduttore di tutto il paese il prete seduto sul cesso verrà sbalzato a 3000 metri di altezza con la tonaca tutta svelanzolante perché no ragazzi non succederà non succederà per il semplice motivo che come adesso io ho un un rubinetto sotto lo scarico della condensa dopo avrò un rubinetto e una valvola quindi a me basterà non aprire tutto il rubinetto ma aprire il rubinetto lo stretto necessario di quello che mi serve per avere la pressione per mandar via la condensa quindi lì sotto oddio che c'è un rubinetto io aprirò il rubinetto anzi metterò la valvola aprirò il rubinetto di tanto che basta e siccome quella è una valvola sfera meno la apre meno pressione passa e poi farò il giochino non sparerò 7 bar direttamente all'interno dello scarico per far schizzare il prete nella stratosfera che magari sta a seduto successo non so sapete presente le immagini di film dove buttano i petali nel cesso e poi esplode tutto non faremo quel lavoro lì ora facciamo una cosa interessante cerchiamo di capire dove prendere l'alimentazione da qua perché noi abbiamo queste bellissime scatolette che sono perfette per arrivare da sotto tanto capi ce ne sono facciamo un attimo di pulizia e poi già già una scatoletta fissata qua se vediamo che lì arriva una 220 che vuol dire che passa direttamente da qua e si infila da qua da qualche parte la tirano fuori preferendo stare attaccato qua perché è qua che c'è tanto posto ok quindi c'è semplicemente un altro passaggio cerco di capire dove farlo girare adesso allora la scelta più intelligente è alimentare lo shelly che poi stia qua o no vada qua dentro così che lo shelly sia in subordine all'accensione del compressore se il compressore è spento è spento che lo shelly che vuol dire che nessuno lo sta usando quindi va bene così se poi si riesce a farcelo stare qua di fianco ma non credo anche se in realtà il mini è veramente piccolo rimane tutto integrato e esce il cavolo lì ora la vera questione ma io ce l'ho ehm i pezzi idraulici per fare sta roba o stiamo sempre a cazzeggiare con l'elettricità e poi non c'ho la roba idraulica la risposta alla domanda di prima è no ovviamente perché ho per attaccarlo sotto ok dato che deve stare orizzontale ma poi mi manca un adattatore che io voglio uscire con un tubicino fagli fare tutto il giro sopra e poi un tubicino di quelli piccoli da irrigazione e poi andare a filarsi direttamente nello scarico della doccia non un tubo rosso un tubo piccolo tanto io ripeto lascio aperto poco quindi niente non non ho i pezzi domani mattina devo andare devo andare ad accompagnare Anna dove non sono andato in settimana quindi in realtà anche domani giornata magna vabbè che è sabato eh no niente non posso fare nulla così passo anche la Tecnomat lì farà il giro così farà il giro dietro là andrà di là scenderà di qua e poi si infilerà lì in un tubicino dentro lì e lo facciamo domani niente ce lo portiamo a casa domani questo lasciamolo lasciamolo così ora sono le sei e mezza se io non mi prendo tempo ragazzi per disegnare le interfacce non le disegno più quindi giornata magrissima però almeno il Big Su che ho portato a casa e siamo in timing con tutti lasciamo qua anzi stacchiamo lo shell che non serve che si sia staccato e noi ci vediamo domani o più tardi nel caso io abbia qualche interfaccia da farvi vedere cazzo per un innesto per un piccolo pezzo domani lo recupero ci vediamo domani buongiorno ragazzi allora sono entrato in un brutto loop un bruttissimo loop un tunnel bruttissimo quello della progettazione dell'interfaccia ha proprio ma manco un tossico ho appena scoperto le animazioni nell'interfaccia per cui mi sono completamente perso sto cercando il più possibile di portarmi avanti con la parte di interfaccia così almeno c'è qualcosa da vedere e per iniziare il prima possibile poi la parte che interessa a me veramente di progettazione perché sarà un connubio di software elettronica ma anche hardware che è l'assistente vocale l'assistente vocale personalizzato con nome personalizzato ho già individuato come fare dovrei avere già anche tutti i pezzi necessari e mi intripa quello perché voglio che sia fisico cioè non voglio voglio che dia una rappresentazione anche fisica dell'interazione ma ci sarà una parte che non ho la più palida idea di come comporla che è proprio questa rappresentazione fisica ma sarà più chiaro quando vi faccio vedere l'esempio perché l'esempio è preso da un altro lavoro che ho visto in internet che non è applicato a un'assistente vocale ma noi lo applicheremo lì ma devo finire più nei sensori quindi sto andando a tecno a tappiare i giunti che mi servivano idraulici per finire il compressore poi ieri ho disegnato il Big Zuka è stato un lavoraccio disegnare in vettoriale il Big Zuka però ci sono dai recupero i pezzi dei giunti e poi vediamo di mettere assieme lo scarico del compressore adesso che sono riuscito a collegare lo Shelly con contatto pulito non mi entrerà mai in testa cos'è un contatto pulito va bene ho recuperato tutti i pezzi che mi servono lo li ho messi qua ho comprato il tubicino da 6 per scaricare l'idea è questa questo non serve a niente eccoci qua dai muoviamoci a fare questo innesto che voglio andare a finire le interfacce che stanno venendo una figata ok la parte idraulica è fatta mi mancava proprio solamente mezzo giunto se no avrei già finito ieri ed eccoci qua abbiamo la valvola ok posso anche girarla indietro non è un problema tanto comunque con la pressione andrà su e girerà di lì si infilerà lì e scaricherà direttamente nello scarico del box doccia ora il cavo c'è da mettere lo Shelly allora spegniamo il compressore i morsetti sotto arriva l'elettricità i morsetti sotto passa l'elettricità solo quando il pressor sta toscatta quindi fa passare l'elettricità solo al motore solo quando scatta a noi serve che sia sempre alimentato lo Shelly e chissà se riusciamo a farlo stare in questa posizione qua perché se riusciamo a farlo stare in questa posizione qua rimane tutto agganciato così se no se no mi tocca fare il giro dell'oca perché mi tocca da qua andare sopra mettere una scatoletta e da sopra andare alla valvola io vorrei far passare tutta la qua che tutto stia qua dentro sarei più contento prendiamo lo Shelly adesso che abbiamo adesso che tanto quando monti i prossimi Shelly 1 so puttacapo eh cioè mi dimentico un'altra volta il contatto pulito se avessi voluto comprare un relè domotico e cercarlo della misura giusta non l'avrei trovato lo Shelly sta perfettamente lì e ci sta anche sopra di nuovo sul cappellotto con l'interruttore ora la valvola già funziona perché ho già alimentato però prima di aprire il rubinetto sotto magari attacchiamo un tubo eh giusto giusto per non sparare merda ovunque poi devo capire come farvelo vedere perché o uso il cellulare per fare la ripresa o uso porterò di qua computer ok allora il tubo fa tutto il giro è già un po' sporco perché avevo fatto la prova di accensione qualcosa era entrato lì fa tutto il giro va su e si infila per un buon 10 cm dentro lì ora l'iPad successo è una raffinatezza se io schiaccio scatta ovviamente la valvola io devo aprire il rubinetto io lo aprirei che poi già qualcosa passa io lo aprirei della di quanto lo apriamo della metà ok c'era già un po' d'aria io lo aprirei della metà proviamo a aprirlo della metà non tutto tutto e vediamo se spariamo il prete nella stratosfera lo faccio in diretta vediamo se faccio un bordello certo che faccio un bordello ok perfetto questa va decisamente fissata meglio perché salta via ok però sta spurgando allora fissiamo meglio quella ho sparato condensa ovunque riproviamo fissato con un passacavo che il culo voleva passasse proprio dalla piletta lì vediamo ok non può essere spento il compressore e questo l'abbiamo capito il compressore deve stare acceso durante questa fase perfetto adesso perché se no lo shell si disalimenta però di fatto tutta la verda che c'era è andata come fare ora verificare che il compressore sia effettivamente vuoto attaccando un altro pezzo di cavo più corto e mettendo sotto una una bacinella vediamo perché l'ha sparata via proprio in un istante allora se ha funzionato e adesso io lo avvio dovrebbe uscire aria e basta ho bisogno di 40 mani per fare questo lavoro qua pochissima roba sì perché la condensa è andata tutta perché mi ricordo che ne esce di condensare qua ne esce un bel po ragazzi direi che funziona la sparata via all'istante ora ogni quanto avviarlo in teoria l'avvio dipende dalla temperatura dall'umidità dalla differenza tra la temperatura dell'area esterna e la temperatura dentro alta compressa però secondo me per non saper indigere scrivere se nella routine di avvio del lab noi gli mettiamo dentro cosa gli mettiamo 5 secondi un'apertura di 5 secondi non di più per me dovrebbe bastare avanzare 5 secondi di spurgo sono pure tanti 5 secondi poi qualcuno mi ha consigliato di fare un'automazione in funzione se è fatto io vernicio o no così si vernicio ogni mezz'ora fa uno spurgo ogni 10 minuti sono tutte cose vere e sensate però a un certo punto con l'automotica bisogna fermarsi a quello che è il reale utilizzo non ha senso io sprechi tempo e risorse mettendo un sensore di là che mi faccia capire quando sto verniciando quando ho verniciato come l'accensione automatica dell'aspirazione della cabina di verniciatura per una roba che di fatto non è che vernici tutti i giorni quindi secondo me a un certo punto bisogna fermarsi e lì col compressore ci si può fermare con una routine giornaliera e basta bene anche quello è fatto ha bisogno la sua interfaccia e il suo automatismo finché non ho finito di disegnare l'interfaccia non mi ci raccapezzo più perché ho bisogno di qualcosa di rivisivo quindi la prima cosa che vado a fare adesso è mi schiaccio un caffè e vado a finire l'interfaccia del Bixuca che mi manca ancora da identificare l'interfaccia intendo proprio l'interfaccia non intendo gli automatismi di funzionamento che quelli li faccio tutti alla fine finisco l'interfaccia del Bixuca che mi manca da fare quando sta facendo la pulizia perché mi deve dare uno riscontro visivo e poi faccio quella dei due compressori che di fatto uno ha solo lo stato on off ma che voglio sapere lo stesso e l'altra invece ha sia l'on off che la fase in cui sta spurgando perché deve dare una presentazione visiva perché voglio una presentazione visiva nell'interfaccia anche se di fatto certe cose sono movimentate dall'automazione perché tutto ciò che è movimentato dall'automazione come lo spurgo come la pulizia del filtro può essere lanciato anche da tasto fisico dell'interfaccia o successivamente da assistente vocale cioè posso dire Anna spurga il compressore per essere lei mi dirà col cazzo perché sarà l'assistente vocale di nome Anna quindi risponderà col cazzo fattelo tu però di fatto poi mi dovrà dare anche una presentazione visiva che lo sta facendo perché io voglio una certezza idem per il Bixouka si riempie il filtro mi dirà uoi pirla guarda che c'è il filtro pieno io dirò va bene puliscilo e lei mi dirà fatelo da solo però io poi voglio una presentazione visiva che lo stia facendo quindi prima devo disegnare le interfacce poi arriviamo a lunedì se tutto va bene lunedì iniziamo l'assistente vocale che è un progetto basato su ESP32 ho detto stamattina che mi perdo quando faccio le interfacce allora ho disegnato in vettoriale il Bixouka ok tutto fatto a vettori così poi l'ho scalato per sembrare uguale a quello della stampante in modo tale che avesse le stesse le stesse proporzioni tra filo esterno filo interno e tutto devo dire che è un disegno venuto bene ora ho fatto la scheda alla fine non mi convinceva sta porcata qua che non c'entrava niente con il resto allora certo che si mettesse a fuoco allora me ne sono fatto uno io orizzontale è molto facile perché alla fine tutte le card anche quelle con animazione anche quelle personalizzate potete farle in JavaScript per cui è un linguaggio conosciuto ora non è finita questa card qua perché allora se io posso adesso simulo riempimento del sacco se è riempimento del sacco lo porto a 30 ovviamente lì compare 30 se lo porto a 98 ovviamente lì compare 98 che va fuori e questo qua dobbiamo aggiustarlo in funzione della posizione quindi c'è questa cosa da sistemare se poi il filtro va in allarme la card dice che il filtro ha bisogno di essere pulito e rilascia un'animazione così che è bella visibile l'animazione che mi manca che non so proprio come fare è quando avvio la pulizia o quando avvio io o quando sta avviando non so come fare l'animazione ci vuole sempre una roba semplice e poi dobbiamo riportare un'animazione anche di là qua adesso questo qua quando era in funzione quando il filament rack era in funzione diventava rosso non è granché ci vuole anche qua un'animazione ora le animazioni si fanno semplicemente con delle gif quindi bisogna poi l'immagine fare tutti i vari frame e fare la gif quindi bisogna non è proprio semplicissimo o meglio è semplice ma se si vogliono fare cose articolate come se volessimo fare non lo so un cambio sfumato di colore per quella del per quella del filament rack che va da azzurro a rosso e si muove su e giù non sarebbe semplicissimo bisognerebbe fare tutti i singoli step con photoshop tra i lustri e il photoshop non è difficile ciò è meglio pensare bene che tipo di animazioni fare prima di metterci a lavorare se no si butta via tempo non so come fare l'animazione della pulizia filtro cosa può succedere a quell'immagine con l'animazione perché quella del compressore è facile una volta che avrò disegnato il compressore quando spurga c'è una freccia che farà così e farà lo spurgo ma il resto non lo so ragazzi in fatto di personalizzazioni icone avete delle idee veramente di merda qualcuno mi ha proposto addirittura di fare il biksuka che gira su se stesso ma come cazzo vi viene allora ho rivalutato un po' le cose questa animazione di questo quando meglio che averlo solo acceso fisso perché di fatto lo sta scaldando poi voi ovviamente vedete quello che vedete è molto più incisa e dettagliata questa qua prima quando il biksuka andava in allarme illuminava questo questo e la lucetta no è molto meglio avere uno spaccato che si vede al filtro ho fatto un disegno in più lo spaccato fa un filtro e mostra l'avviso per quanto riguarda invece la la pulizia del filtro ho un cave ho un problema però prima di dirvi il problema vi dico un'altra un'altra cosa a noi quello che interessa veramente veramente tanto intanto sto cercando come simulare l'attivazione quello che a noi interessa veramente veramente tanto quando quello lì è in pulizia non trovo più i pezzi datemi un secondo quello che interessa a noi durante la pulizia del filtro sono due cose prima cosa non poter premere questo bottone qua ok non poter rilanciare un'altra volta la pulizia del filtro perché piuttosto che stare a fare una logica all'interno dell'azione dove tu se sta facendo la pulizia allora non puoi attivare un'altra conviene molto prima nascondere il bottone e due avere un countdown avere un countdown che mi faccia sapere quanto manca alla fine della pulizia e allora tra questo e l'animazione l'ho risolto così praticamente quando si avvia la pulizia adesso io la simulo innanzitutto non mostra più il Biksuka ma mostra il filtro che caga giù la roba e poi questo qua di fatto è un countdown che copre il tempo e si va a riempire piano piano di verde quando passa il tempo ora il numero di sezioni qua vedete che si riempie il numero di sezioni qua e tutto sono ancora a sistemare però di fatto questa è l'animazione perché il filtro che la fa nevica quando ha finito torna normale il cavez che ho che non riesco assolutamente a risolvere non è importante però mi rompe parecchi i coglioni come avevo anticipato ieri durante la pulizia del filtro il sensore che è attaccato lì fa indubbiamente una rilevazione sbagliata allora o sposto l'attacco e costruisco una barra in mezzo che mi tiene il sensore che non mi fa impazzire oppure mi tengo l'errore perché per tutto il periodo adesso io questo qua l'ho settato lui fa una rilevazione ogni 30 secondi e mi dà la media ogni 4 quindi ogni 2 minuti mi dà il nuovo livello però la pulizia del filtro dura quasi 10 minuti quindi in questi 10 minuti lui rileva ed è facile che rilevi sbagliato è vero che quando finisce tutto alla prossima rilevazione torna al suo punto perché torna a misurare correttamente però io non ho trovato un modo con SPOM perché mi blocchi completamente il sensore cioè smetta di rilevare il sensore non ho trovato assolutamente nessun modo per esporre un'entità all'interno di un assistant che dica a SPOM non mostrare il sensore posso mandare SPOM offline però io lì ricevo un errore non fisso il dato devo trovare qualche barbatrucco che fisso il dato così com'è smette di rilevare il dato del sensore lascia passare la pulizia del filtro e poi torna a rilevare il sensore non ho fatto ovviamente il compressore anche perché non sarà semplicissimo da disegnare però di fatto piano piano la domotica sta venendo tutta come dico io ho animazione e countdown alla pulizia del filtro e ci sta tutta e poi animazione con tanto di spaccato quando il filtro è in allarme di qua invece per ora abbiamo animazione di questo qua che si scalda perché di fatto quello che fa è scaldare adesso lasciate stare l'ordine delle cose perché non saranno certo divise così a colonna saranno messi i mensori che sono molto meglio questi due non c'entrano niente però ci siamo sta sta venendo piano piano vedo arrivare a lunedì con le ultime interfacce così magari lunedì ci mettiamo già solo l'assistente vocale però mi mancano i microfoni da collegare devo ordinare i microfoni e anche forse una cassa dai ci vediamo domani ciao